Ogni dettaglio è stato scelto con cura. Dal tessuto del divano, alla lana a bucle delle sedie, fino al lino delle tende. Tutto per dare profondità e uniformità all'ambiente. L'avete studiata nei minimi dettagli. Oh, mai nella mia vita avrei immaginato di poter vivere in una casa come questa. Pensare a dove vivevamo prima e ora invece abbiamo... questa casa meravigliosa e tutto grazie a voi. Io credo che entrambi avete dedicato le vostre vite ad aiutare le persone. E adesso è l'universo che vuole aiutare voi. Per noi è un onore sapere che vi sveglierete qui ogni giorno. È incredibile. Niente male. No. Che cattivo. Era per dire... Sì, ho visto di meglio. Infatti è così. Sì.